Un bilancio che non lascia indietro nessun abruzzese con tutti i servizi essenziali garantiti dalla sanità sociale, passando per i trasporti e la protezione civile. Non accetta polemiche e strumentalizzazioni da parte delle opposizioni. Il presidente della regione Marco Marsiglio, che ha ricordato come l'Abruzzo abbia dovuto fare i conti con oltre 50 milioni fratagli e minori entrate che hanno inciso sul nuovo bilancio. Noi attendiamo che il governo onori i suoi impegni. Tra gennaio e febbraio, se non arrivano da parte del governo le risorse per compensare le minori entrate o le maggiori spese, difficilmente potremmo mantenere lo stesso livello dei servizi o evitare un incremento delle tasse che noi vogliamo assolutamente scongiurare. Con questo bilancio non abbiamo fatto nessuna previsione di aumento delle tasse, perché aumentare le tasse in un'epoca di crisi economica sarebbe davvero un suicidio. Quando il governo ci mette nella condizione di avere 50 milioni in meno a disposizione, non possiamo che andare ad incidere su tutti i gangli. Però quello che voglio rassicurare agli abruzzesi è che da domani, dal primo gennaio, nessuno avrà un servizio in meno, un'attenzione in meno, perché tutte le voci di spesa sono garantite mediamente per almeno 10 dodicesimi e quindi andremo avanti a offrire servizi, a spendere quello che è necessario per garantire i livelli di assistenza e di sostegno soprattutto alle fasce più deboli e voglio sperare che tra gennaio massimo a febbraio il governo ci darà quello che manca per poter fare le opportune variazioni e i necessari appostamenti per riequilibrare le voci che in questo momento abbiamo dovuto chiudere in perdita. E intanto, in attesa dell'arrivo di nuovi vaccini anti-covid, la nostra regione dal 7 gennaio si appresta a tornare zona gialla. Si è cominciato il 27 con questo inizio simbolico, ora stanno arrivando le prime dosi, seguiremo di concerto con il commissario Arcuri il piano di vaccinazione, che prevede la priorità per il personale sanitario o comunque impiegato in attività legate alla sanità perché la prima questione è mettere in sicurezza le persone che stanno quotidianamente in prima linea. Dal 7 gennaio assolutamente sì, è già scaduta l'ordinanza con la quale il ministro Speranza poneva l'Abruzzo in zona arancione fino al 27 dicembre. Ora siamo in zona arancione e rossa in virtù di un decreto legge che pone tutta l'Italia nella stessa condizione. I nostri numeri sono già da zona gialla da prima di Natale, quindi siccome peraltro il trend di miglioramento continua, si consolida anche in questi giorni, penso che sia assolutamente certo che il 7 gennaio possiamo riaprire in zona gialla.